Ciao, creatura. Io sono Ecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Ursaí ASMR. Questa sera vorrei proporti due triggers nuovi che ho visto su TikTok. E vorrei riproporle anche sul mio canale dato che è anche uno dei due. Qua appena vedrai dirai questo è il trigger giusto per Ecati Splendente che come avrei detto dal titolo è la Coconut Rain. Cioè quando l'ho visto che me l'ha mandato Artefatta Artist e ho detto questo è il mio trigger. Questo è il mio trigger. Cioè quando l'hanno inventato hanno pensato a Ecati Splendente. Non è vero però sembra tutto girare intorno alla dea. Allora vi farò alternati così poi mi dirai quello che ti crea, ti stimola più tingles. Adesso appunto il primo è il Coconut Rain. L'altro è un modo di tagliare, di catturare, di catturare e di tagliare l'energia negativa. Le negative vibes, diciamo. Che oppure potrebbero essere anche i pensieri negativi. Questo non è che sia proprio novissimo. È che volevo abbinarlo a qualcosa. Perché era bello secondo me, nella mia idea. Hanno entrambi visual trigger e... Sound trigger e quindi volevo fare questa specie di challenge però alla fine tu mi dirai quello che ti ha provocato più brividini. Io so già qual è il mio preferito ma è scontato quindi non lo dico neanche. E come al solito non voglio influenzarti nella tua scelta anche perché siamo tutti diversi. Può anche succedere che nessuno dei due ti faccia provare tingles quindi fammelo sapere nei commenti. Grazie per essere con me anche questa sera e grazie per il tuo sostegno con il tuo like, la tua iscrizione. E grazie anche se condividi qualche mio video. Perché no? Può succedere. Magari per sapere se qualche tuo amico preferisce la coconut rain o il taglio dell'energia negativa. Ok, allora andiamo. Coconut, 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 coconut crush. Coconut, 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 crush. Coconut, 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 crush. 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 coconut crush coconut crush Coconut 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 crush scottototottotototototototototot generous Coconut, coconut, coconut crush Coconut, coconut, coconut crush Secondo trick Dopo ne faccio un poltero Pizzico, pizzico, pizzico Pizzico, pizzico, pizzico Pizzico, 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 tiro, e taglio. 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 Pizzico, questo qua l'ho italianizzato, faceva altri suoni perché li dice in inglese, però pizzico in italiano è anche più bello, secondo me è italianizzato anche più bello. Pizzico, 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 poi come dico io pizzico, che è pizz, come pezzi. Pizzico, 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 pizzico. Pizzico, tiro, e taglio. Pizzico, 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 tiro, e taglio. Coconut, Coconut, Coconut Crush Coconut, 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 Coconut Crush Coconut, 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 Coconut Crush Coconut, 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 Coconut Crush coconut , coconut , coconut crush Pizzico, tiro, taglio Pizzico, tiro, taglio Adesso cerco di farlo sempre più lento Più lento Pizzico, pizzico, pizzico Pizzico, pizzico Pizzico, pizzico Pizzico, pizzico Pizzicol Pizzicol pizzico tiro Coconut crush Coconut 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 Crush Coconut Coconut Crush Coconut Pitchy go 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 pizzico tiro coconut adesso proviamo veloce metti Coconut, 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 Coconut Crush Coconut, 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 Coconut Crush Coconut, Coconut, Coconut Crush no mi dici più lento, mi piaci più lento, quindi terminiamo con lento, normale Coconut, Coconut, Coconut Crush Coconut, Coconut, Coconut Crush Coconut, 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 Coconut Crush нравится! pizzico, pizzicoements! pizzico, 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 pizzico. spero che questo video ti sia piaciuto fammi sapere se ti è piaciuto di più versione normale, veloce, lento e quale dei tuoi trigger ti ha provocato più tingles ti auguro come sempre buonanotte buon relax ciao creatura